Wax, su All Music Italia, ben trovato, come stai? Bene, bene. Come stai vivendo questi giorni che precedono il lancio del tuo nuovo singolo? Sono molto contento, sono emozionato e spero che piaccia tanto alle persone questa nuova musica. Primo al mondo, un singolo che anticipa un nuovo progetto, che ci racconta un nuovo Wax, un Wax cresciuto rispetto ad amici. Come ti descriveresti con soli tre aggettivi? Consapevole, sensibile e sincero. E ti ricordi il momento esatto in cui questa canzone ha iniziato a prendere forma? Non so, eri al pianoforte piuttosto che al mare, stavi guardando un tramonto? Ah, ero in studio con Andrea Bonomo e il produttore Renzo Stone. E noi abbiamo incominciato a parlare delle situazioni nostre amorose, no? Le mie vecchie situazioni di relazione. Ci è venuto in mente questo titolo, Primo al mondo. Abbiamo cercato su Spotify se c'era una canzone che si chiamasse Primo al mondo, non c'era. Allora diciamo, facciamola noi. Diamo un bel concetto di Primo al mondo, ovvero quello della metafora della prima volta. Prima di fare qualsiasi cosa, cercare di non reagire con l'istinto, cercare di non reagire con l'istinto e prendere consapevolezza della situazione in ambito lavorativo, in ambito d'amore e riflettere su quello che devi fare. E questa canzone è anche un po' un invito a fermarsi, appunto a riflettere, a capire l'importanza che hanno le cose e spesso anche le cose più semplici. C'è un qualcosa che magari ti capita di dare per scontato e che oggi magari dici cavolo, quella cosa lì per me ha un significato molto importante, eppure spesso mi dimentico quasi di averla. Ma un esempio di questo potrebbe essere anche sulla musica stessa, per esempio. Ho preso tanta consapevolezza lavorando con gli autori, che prima non lo facevo, per esempio che prima di scrivere un testo è necessario entrarci dentro, raccontarsi, per far sì che si crei una sintonia, un'energia giusta e raccontare la storia passo dopo passo nella scrittura, nello scrivere. E c'è una frase molto bella all'interno di questo singolo, tu dici sento che per una volta, la prima volta, non penso per primo a me stesso, e mi veniva in mente quanto spesso poi è difficile mettersi da parte per il bene della persona che abbiamo al canto. È vero, perché ho conosciuto, ho preso più consapevolezza del rapporto che ho con le persone che amo, quando prima invece non avevo, ma magari di più sensibilità, per questo mi sono definito con l'aggettivo sensibile prima, perché riconosco il vero valore del rapporto con una persona, quando prima invece magari pensavo solo a me. E questo singolo arriva dopo un epidesordio, Wax, poi c'è stato un altro singolo, After, e adesso primo al mondo. Cosa sta bollendo in pentola in questi mesi? Allora, cerchiamo di fare più canzoni possibili, per poi selezionare le più belle, quelle che mi rappresentano di più. Sto lavorando con un sacco di autori, produttori, che oltre che essere... è bello perché quando vai in studio, nel mondo soprattutto della musica, secondo me, una volta che... cioè ti racconti, no? Una volta che sei in studio e ti racconti con queste persone, magari ti dai un'esperienza di vita, è tutto subito. E poi crei un'amicizia con queste persone, che ti porteranno a creare altre musiche. Io mi sono trovato bene con queste persone, Andrea Bonomo, Renzo Stone e altri autori, con cui appunto condividiamo questi... con cui condiviamo questo periodo e grazie a loro siamo riusciti ad avere un gruppettino di musiche che probabilmente trasferiremo attraverso un EP prima dell'estate, così che possiamo fare un tour estivo. Mi sembra di capire che di musica in ballo ce n'è tanta rispetto all'EP che abbiamo avuto modo di ascoltare e di imparare un po' anche ad amare, ecco. In che direzione stai andando o in che direzioni stai un po' sperimentando? È giusto reinventarsi, mi piace reinventarmi, mi piace farmi vedere sotto tanti punti di vista e nella maniera sempre più sincera possibile. Sto andando nella direzione... mi sto prendendo come reference Post Malone, Kid Laroi, il pop americano mi piace un sacco. Penso che loro siano molto liberi nel fare le cose e vorrei assolo pure io. Quindi sono in questa direzione, un pop con la chitarra classica, senza mettere troppe cose sotto, far parlare le parole. E molto spesso si dice che non c'è futuro senza un presente, ma non c'è un presente senza un passato. Quando è realizzato che questo, che fare musica, poteva effettivamente diventare un lavoro o perlomeno che tu non avresti mai potuto vivere senza questa cosa qui? Io ancora non lo so se è il mio lavoro, però io so che questa cosa qua, la musica, è una cosa che mi fa essere sincero con il mondo, quindi è il mio unico linguaggio per parlare con questa vita. E pensando un po' ai primi segnali di musica nella tua vita, c'è un ricordo nitido? una canzone, uno strumento che magari ti hanno regalato da bambino, non so. Sì, sicuramente quando mi hanno regalato il violino, quando ho iniziato a suonare il violino, sono stati i primi passi verso il mondo della musica, è necessario saper suonare uno strumento. Ho incominciato a leggere le note sul pentagramma, ho imparato teoria sul feggio, storia della musica, avevo la professoressa Oddi, una grandissima professoressa delle medie, che l'anno scorso quando sono uscito con le canzoni non ci vedevamo da sei anni, ho visto che ho fatto le storie sui social con i suoi alunni di adesso, faceva ascoltare le mie canzoni, di me invece di sei anni fa. È una soddisfazione vedere l'insegnante che ascoltare le tue canzoni. E dalla realtà passiamo ad un altro pianeta, ad un'altra dimensione. Tu hai detto che l'immaginazione è l'unico superpotere che abbiamo. Sì. Di quelli che non abbiamo, ce n'è uno che ti piacerebbe tantissimo avere? Ha un superpotere? Tre, tre poteri. Tre poteri. Allora, l'invisibilità, volare, poter far apparire le... Ah, il potere della fortuna. Ok. Allora, con questi tre desideri irrealizzabili, ma si sa mai, magari in un videoclip potresti sviluppare questi tre superpoteri. Ci lasciamo con in cuffia il tuo nuovo singolo, Prima al mondo, in bocca al lupo per tutto e buona musica. Grazie. Ciao, ciao al music.